questo pomeriggio ci parlerà della vita augusti di svetonio come modello della vita caroli di e ginardo a te la parola e grazie grazie a voi ecco già da questa breve presentazione capite che oggi la faccio proprio fuori dal seminato completamente perché nei miei studi ci sono c'è la parte antica c'è la parte umanistica c'è un buco che è la parte medievale e proprio di quello oggi vi parlo quindi già capite che insomma così è un terreno su cui io in primis ho più da imparare che da insegnare e proprio per questo motivo sposto correggo anche un pochino la prospettiva anche a beneficio dei numerosi studenti che stanno seguendo questa conversazione e direi che privilegerò anche proprio la presentazione della vita caroli di per se stessa che è un documento di estremo interesse ma che appunto appartenendo a un'epoca estranea all'antichità nella nostra scuola non ha cittadinanza insomma non ha spazio al contrario di quello che accade nelle scuole di altri paesi che si sono affacciati sulla scena della storia più tardi rispetto a noi e quindi carlo magno è un personaggio fondante non è semplicemente uno dei grandi della storia e quindi la vita caroli è un testo molto letto e molto conosciuto qui da noi molto meno intanto chi è l'autore dobbiamo dire due parole su Eginardo che è una delle personalità più significative di quella che va sotto il nome di rinascita carolina o carolingia cioè quel rifiorire della cultura che si ha un po' dappertutto nell'Europa occidentale in corrispondenza appunto con l'affermarsi della potenza del regno franco con l'espansione territoriale del regno franco che come è noto a un certo momento diventa sacro romano impero il secolo settimo e soprattutto la prima parte dell'ottavo sono forse il momento di massima crisi della della cultura da cui però poi l'Europa si risolleva grazie anche proprio a uno spirito organizzativo che promenava dalla corte dalla corte di Carlo e Ginardo nasce in quella che oggi è la Germania a Fulda probabilmente nel 775 e fu discepolo del grande alcuino di York l'erudito principale di quest'epoca è uno dei più importanti collaboratori di Carlo Magno in questo quest'opera di riorganizzazione rinascita culturale a un certo momento entra a corte e Carlo Magno gli affida il ruolo diremmo oggi di ministro dei lavori pubblici fondamentalmente e si deve a lui proprio la direzione dei lavori della cappella palatina di acquisgrana tuttora monumento tuttora superstite esempio insigne di architettura carolingia la sua vita si svolge tutta a corte fino alla morte di Carlo Magno tranne un breve viaggio a Roma per una missione diplomatica presso la corte pontificia nell'anno 806. Il periodo più tormentato della sua vita è però quello che segue la morte di Carlo Magno nell'814. Egli infatti era stato designato dall'imperatore come precettore del figlio di Carlo Magno Ludovico il Pio e successivamente anche del figlio di questo cioè l'otario quello destinato a diventare imperatore alla morte di Ludovico il Pio. Ci furono poi dei torbidi perché Ludovico il Pio era una personalità appunto merita questo nome Ludovico il Pio perché la sua attenzione principale era volta alla sfera spirituale e non era molto abile nel destreggiarsi tra gli affari politici per cui a un certo momento egli pareva inclinare a nominare erede del regno un figlio diverso da l'otario che aveva avuto da un'altra moglie e l'otario era determinato a prendere le armi contro il padre per rivendicare la sua primogenitura e si dovette proprio alla saggia opera di mediazione da parte di Eginardo se il regno carolingio non fu sconvolto da una guerra civile. Nell'830 proprio grazie a lui le parti si riconciliano quindi l'otario si riconcilia col padre Ludovico il Pio e il regno insomma salva la pace. A questo punto ormai aveva già 55 anni che insomma per l'epoca erano un'età significativa e quindi si ritira a vita privata appunto circa nell'831 così e la sua vecchiaia che trascorre assieme alla moglie fino all'836 viene poi onorata da una visita di Ludovico il Pio che appunto si reca al suo domicilio per onorarlo. Muore poi dopo quattro anni di vedovanza che per lui fu molto pesante perché era molto legato alla moglie. Muore nell'840 quindi all'età di grosso modo 65 anni. Scrisse molte cose fu autore di una parte dei cosiddetti annales francorum su cui ritorneremo che significativamente non continuò dopo l'anno 829 cioè appunto l'anno in cui i torbidi tra Ludovico il Pio e l'otario minacciavano seriamente la pace del regno. Sembra proprio che lui non se la sia sentita insomma di affrontare scrivendo un fatto che era ancora così vicino nel tempo e probabilmente ancora scottava. La sua opera però appunto per cui è più conosciuta è la vita Caroli. Quest'opera nasce dall'intento di fornire un ritratto più completo e a tutto tondo possibile di una personalità come quella di Carlo Magno che a giudizio suo ma non solo suo era senz'altro la più importante del suo tempo. Per una personalità del genere naturalmente tutto portava a prendere come riferimento qualche grande imperatore dell'antico impero. Tutto l'impero di Carlo era una riproposizione fin dal nome Sacrum Romanum Imperium, il fatto che la sua presidenza di Aquisgrana si chiamasse Palatium. Tutto rievocava Roma, tutto rievocava gli imperatori antichi. Addirittura gli eruditi riuniti nella sua corte e nella scuola palatina avevano ciascuno un soprannome. C'era un poeta che si faceva chiamare Orazio, un altro che si faceva chiamare Ovidio e così via. Quindi c'era questa volontà di ricreare quel determinato ambiente e quindi quasi necessariamente nel momento in cui Eginardo volle lasciare ai posteri un monumento verbale al suo sovrano ricorse alle vite dei Cesari di Svetonio. E' probabile che lui abbia studiato a lungo le vite dei Cesari in generale e quella di Augusto in particolare, perché molti studiosi hanno detto una cosa condivisibile, cioè l'aver presente le categorie svetoniane ha sicuramente aiutato Eginardo a dare di Carlo Magno un'immagine quanto più completa e articolata possibile, cioè la biografia che lui magari avrebbe comunque scritto sarebbe stata diversa e meno articolata, meno sfaccettata, se egli non avesse operato avendo in mente questo modello. E' presumibile che egli abbia avuto per le mani le vite dei dodici Cesari ancora in forma completa. Voi sapete che la prima delle dodici vite, quella di Giulio Cesare, è mutila della parte iniziale ed è anche perduta la lettera prefattoria che Svetonio aveva indirizzato al suo protettore, al suo mentore, Setticio Claro, in cui motivava appunto il fatto di aver scritto queste biografie. La vita di Carlo Magno invece ha una prefazione in cui proprio lui si diffonde sui motivi che lo hanno spinto a scrivere questa biografia. E' ben difficile che lui si sia così inventato di sana pianta la necessità di questa prefazione e quindi invece è assai più verosimile che anche nel dotare la sua biografia di una prefazione egli abbia inteso seguire le orme di Svetonio. E quindi, insomma, grazie a questo scritto possiamo avere forse un'idea perlomeno dell'impianto argomentativo che caratterizzava la lettera con cui Svetonio motivava a Setticio Claro la composizione di queste biografie. Dello schema biografico svetoniano la vita Caroli è specchio fedele. Tutti sanno, in qualunque manuale di storia letteraria, si trova scritto che le biografie di Svetonio non sono condotte per tempora sed per specchies, lo dice nel nono paragrafo proprio della vita Augusti. A suo tempo si pensava che lui avesse applicato alla biografia del sovrano lo schema della biografia dell'erudito oggi invece questo non si pensa più, ma insomma questo adesso ha una relativa importanza. Fatto si è che appunto nelle vite dei dodici imperatori e in quella di Augusto in modo particolare cioè non in modo particolare, quella di Augusto è quella che interessa a noi, insomma Svetonio procede così, dà delle informazioni sulla nascita, sull'ambiente di nascita, sulla famiglia d'origine dopodiché interrompe, fino insomma al momento in cui l'imperatore in questione sale sul trono dopodiché interrompe lo sviluppo cronologico e procede appunto per specchiesse quindi le guerre che ha combattuto la politica interna, la gestione degli affari ordinari eccetera eccetera, la sfera privata e quindi le parentele, i matrimoni che ha combinato, gli interessi culturali eccetera eccetera anche i piccoli pregi e difetti e poi conclude invece con le circostanze della morte, la morte, il testamento, il funerale, la sepoltura eccetera. Questo stesso schema identico viene replicato da Eginardo per Carlo Magno e c'è una spia anche interessante del fatto che proprio lui aveva sempre in mente insomma lo schema di Svetonio perché quasi all'inizio egli dice delle famiglie di origine, soprattutto della sua infanzia non sappiamo niente però lo dice appunto cioè come se lui si rendesse ben conto del fatto che lui non può imitare Svetonio non può seguire Svetonio in questo particolare tratto della vita del suo personaggio perché non ha elementi in merito. Probabilmente se non avesse avuto appunto come traccia la biografia di Svetonio forse non avrebbe detto questo, avrebbe semplicemente cominciato l'esposizione delle notizie dal momento in cui queste erano disponibili. però appunto già questo è una spia di questo fatto. L'idea di poi procedere per specchies si sposa bene con quello che lui afferma nella prefazione cioè l'importanza del personaggio e della personalità che così viene messa in adeguato rilievo. Ed è ancora più importante questo perché in sostanza Eginardo è il primo che opera in questo senso dopo secoli perché nell'alto medioevo l'unica forma di biografia è quella ageografica, è la vita dei santi. Nell'edizione dei monumenti a Germania e Historica ci sono mi pare sette volumi di Vita e Sanctorum Aiwi Mero Winghiki quindi una produzione copiosissima però tutta focalizzata su un certo tipo di figure. nel mentre per quanto riguarda gli scritti di carattere storico e lo stesso Eginardo ne è un esempio prevaleva il criterio cronachistico analistico, tutte le notizie che noi abbiamo sul Regno dei Franchi nei secoli ultima parte del sesto, tutto il settimo e prima parte dell'ottavo sono notizie spicciole di carattere analistico. Ecco in quest'anno c'è stato guerra contro la Senna, ha straripato e ha distrutto mezza Parigi, c'è stato neve per un mese in più del solito, eccetera. Quindi tutte notizie di questo tipo che spetta poi allo studioso mettere assieme per dare un quadro che somigli un po' più alla storia. Possiamo quindi, adesso dopo aver premesso queste cose, possiamo vedere un momento qualche esempio. Vi faccio vedere i testi su cui lavoriamo, questo è il frontespizio dell'edizione dei Monumenti a Germania e Historica curato da Weitz ancora più di cent'anni fa. Colui che ha indagato per la prima volta in maniera sistematica i rapporti tra Eginardo e Svetonio è questo Friedrich Schmidt che nel 1880 ha pubblicato a Bayreuth, forse a pochi metri dalla casa dell'ormai anziano Richard Wagner, ha pubblicato questo studio, De Einardo Suetoni imitatore, che si iscrive in un filone di studi che in quegli anni andava moltissimo, quello della Quellenforschung, del ricercare le fonti su cui gli autori lavoravano. Ed è un lavoro, insomma, sì, meritevole naturalmente perché se taccia il testo però è un po' un elenco telefonico, non dà un'interpretazione globale. Infine, così come curiosità, questa è l'edizione critica nella collana dei Monumenti a Germania e Historica. Questo è lo studio De Einardo Suetoni imitatore e questa, invece, la prima edizione a stampa fu pubblicata nel 1521 in un ambiente, anche questo molto significativo, che è quel circolo umanistico del Medioreno, insomma, tra Basilea e Strasburgo, dove era attivo Erasmo, tanto per citarne uno, con tutta una cerchia di suoi amici più o meno meritevoli, insomma, nell'opera di pubblicazione e divulgazione di testi. Allora, adesso io andrei a vedere, proprio per avere un po' idea, insomma, dei rapporti diretti tra Svetonio e Ginardo, qualche esempio. Dunque, andiamo al capitolo diciottesimo, per esempio. Abbiamo una parte in cui tratta dei matrimoni, non sono molto note le vicende matrimoniali di Carlo Magno, quindi adesso non staremo a ricordarle tutte, comunque vediamo qui. Quindi dice Poi finalmente dice E qui abbiamo già un richiamo, perché anche Svetonio, parlando di Augusto, usa esattamente questo stilema, Filiam di uno, Duxituxorem, ma naturalmente questo è un richiamo che potrebbe anche venire dal comune modo di scrivere. Dopodiché abbiamo appunto il famoso ripudio, no? Post annum eam repudiavit, come vedete qui non c'è il nome, il nome tradizionalmente Ermengarda, in realtà nella vita di Carlo Magno non si trova. Poi sposa un'altra donna da cui ha diversi figli e poi nell'ultima parte di questo capitolo, ecco purtroppo è a cavallo di due pagine, Vedete, defuncta fa strada, liut gardam alla mannam duxit, de qua nihil liberorum tulit. Questa stessa frase, nihil liberorum ferre, la trovate in Svetonio, nel 62esimo capitolo della vita di Augusto, dove dopo aver detto che Augusto ebbe la figlia Giulia dalla seconda moglie Scribonia, aggiunge che ex livia nihil liberorum tulit e quindi come vedete è un chiaro segno dell'imitazione perché non verrebbe da dire così, con questo neutro nihil liberorum, e invece lui proprio riprende pari pari la locuzione usata da Svetonio. Poi ancora abbiamo l'attenzione ai nipoti, su cui magari adesso possiamo anche sorvolare per passare a altre cose. Dunque il capitolo diciannovesimo, anche qui abbiamo diversi richiami, intanto il fatto che come Renzo Tramaglino, anche Carlo Magno volle che i figli fossero istruiti, già che là c'è questa ribalderia, dice Renzo, e quindi liberos suos ita censuit instituendos ut tam filii quam filiae primo liberalibus studis quibus etipse operam dabat erudientur. E poi in particolare delle figlie, alla riga 23, dice E anche qui nella vita di Augusto, al 64esimo capitolo, troviamo lo stesso identico concetto detto con più o meno le stesse parole. Filiam et neptes ita instituit, vedete come instituendos alla riga 19, ut etiam lanificio assue faceret. Qui alla riga 23 abbiamo lanificio assuescere, quindi è evidente anche qui l'impronta. Come peraltro, alla riga 20, l'espressione liberalibus studis, la troviamo identica nella vita di Augusto al capitolo 84esimo, dove di lui si dice studia liberalia ab aetate prima ex circuit, eccetera, eccetera. Quindi anche qui è identico il modo di esprimersi. Poi avete ancora un altro paragrafo, un altro periodo interessante, alla riga 12. Anche Carlo Magno fu segnato da una sorte simile a quella che ebbe Augusto, cioè di vedersi premorire tutti quelli su cui lui aveva puntato come suoi possibili eredi, figli, figli astri, figli adottivi, eccetera, eccetera. Da Marcello, Gaio Cesare, Giulio Cei, Lucio Cesare, eccetera. Mortes filiorum ac filiae, Roma annanimitate, qua excellebat, minus patienter tulit. Quindi soffrì molto evidentemente per questi lutti. E qui anche nella vita di Augusto si dice appunto che anche lui ebbe a patire, dice Quindi Augusto ha una lode particolare, dice Sopportò con maggior rassegnazione la morte dei suoi parenti che non i dedecora, che non gli scandali che avevano dato. E però abbiamo sempre appunto il verbo ferre, l'aggettivo patienter, che in svetonio è al comparativo patientius, e così avanti. Poi abbiamo l'ultima parte, ecco sempre l'ultima parte di questo capitolo, che riguarda invece le amicizie. Dunque, andiamo qua sotto, dove sta? No, più su. Eccolo qua, la riga 14. Quindi, quando gli fu annunziata la morte di Adriano, papa, Anche in questo si può vedere una similitudine, con il paragrafo, con il capitolo 66 della vita di Augusto, dove si dice proprio quasi uguale Amicitias, però al contrario Nequefacile admissit et constantissime retinuit. Quindi Augusto aveva pochi amici, ma a quelli rimase sempre fedelissimo. Qui forse Ginardo intende dipingere il suo signore come migliore dello stesso Augusto, era più propenso a stringere amicizie, e comunque tutte le amicizie che strinse le conservò fedelmente. Quindi forse intende appunto rilanciare rispetto al suo modello. Un'altra cosa di cui troviamo un parallelo è quello che segue. Filiorum, siamo la rega 20. Filiorum ac filiarum tantam ineducando curam abuit, cosa che aveva già in parte detto, Ut nunquam domipositus sine ipsis cenaret, quindi non cenava mai senza che i figli fossero assieme a lui. E anche qui troviamo nella vita di Augusto al capitolo 64esimo quasi le stesse parole. Neque cenavit una, nisi ut in imoletto assiderent, neque iter feicit, nisi ut vehiculo anteirent. Ma non solo, Svetonio prosegue, nisi ut vehiculo anteirent, quindi i congiunti di Augusto dovevano precederlo nei mezzi di trasporto, out chirca ad equitarent, o cavalcassero chirca nell'immediata sua prossimità. E vedete come va avanti Eginardo, ad equitabant e i filii, filia è vero, pone sequebantur. Quindi anche il verbo ad equito, che ovviamente non è un verbo così, che si trova a ogni piesso spinto, tutt'altro, ci richiama al modello. Dunque, sempre a proposito dei rapporti familiari, abbiamo anche un'altra cosa piuttosto singolare che si dice alla fine del capitolo 19esimo. Quindi erano così belle queste figlie di Carlo che lui le voleva tutte per sé, le voleva tenersi le strette. E non è mai concessa in matrimonio a nessuno, in realtà non è vero perché poi lo stesso Eginardo più avanti dice che una figlia era stata fidanzata, poi la cosa non si concluse, con un principe bizantino, per cui insomma si contraddice da una pagina all'altra. Sed omnes secum usque ad obitum sum in domosua retinuit. Dicens se earum contubernio carere non possa. Non ce la faceva stare senza, dopo si dice dei genitori mediterranei, ma invece lui era così, molto affettuoso evidentemente. Questo, ciò che insomma Eginardo dice qui, non può che richiamare il passo in cui invece Svetonio fa vedere tutte le sistemazioni che Augusto concepì per i suoi parenti, soprattutto alla figlia Giulia, naturalmente, i vari matrimoni a cui la destinò e anche a tutte le nipoti, cosa che Svetonio racconta nei capitoli 63esimo e nella prima parte del 64esimo. Quindi evidentemente Eginardo non poteva trattare di questi matrimoni, che non ci furono, però intese comunque costruire un pandan, un insieme di frasi che corrispondessero a quanto si diceva nel modello. Ultimo esempio da questo capitolo 19, anche perché il tempo passa, si parla degli scandali che queste figlie hanno dato, anche qui la presenza di Svetonio si vede anche nella scelta degli argomenti, perché dire queste cose, insomma, in un contesto di tipo panegiristico e così, poteva risultare sconveniente dire che le figlie di Carlo Magno, insomma, erano un po' chiacchierate. E evidentemente è lecito concludere che Eginardo si comportò così perché trovava queste cose nel suo modello. Se persino di Augusto gli storici antichi non hanno taciuto il fatto che avesse tra la sua discendenza alcune signorine un po' inquiete, allora io qualcosa, in realtà come diremo sono parole molto vaghe, ma insomma qualcosa posso dirlo anch'io, e dice Quindi fu sfortunato, non è detto che cosa, in realtà, insomma, noi sappiamo da altre fonti che una figlia ebbe una tresca con un ecclesiastico da cui ebbe anche un figlio e un'altra anche ebbe relazioni tumultuose ed ebbe dei figli illegittimi e uno fu anche Nitardo, che poi diventa uno storico del Regno dei Franchi. Però dice Quindi seppe dissimulare, seppe comportarsi come se non si fosse mai diffusa alcuno sospetto o alcuna chiacchiera sul comportamento di queste donne. Anche qui invece, qui corregge il tiro, perché invece Svetonio nel capitolo 65esimo, proprio nella prima parte, si diffonde invece sullo sdegno che Augusto più volte manifestò anche pubblicamente rispetto agli scandali che dava sua figlia Giulia e altre donne della sua famiglia. Quindi ancora una volta, e Ginardo intende migliorare il suo eroe rispetto al modello. Augusto non sopportava e dava sfogo all'ira, Carlo Magno invece dissimula, quindi è più regale rispetto all'antico predecessore. Adesso si potrebbe naturalmente andare avanti per molti capitoli, la vita caro lì è lunga, ma così possiamo fare qualche spigolatura qua e là. Per esempio un capitolo che non è privo di interesse è il ventiduesimo, dove si diffonde sull'aspetto fisico di Carlo e qui è in sostanza tutta una compilazione di vari dati che si trovano non tanto nella vita di Augusto ma in altre biografie svetoniane. Vedete anche qui in parte nelle note, si scorgono dalla riga 36 in giù, vedete, corpore fuit amplo atque robusto e sotto avete nella vita di Tiberio corpore fuit amplo atque robusto. Poi statura eminenti, quae tamen iustam non excederet, quindi era alto di statura ma non troppo alto. E anche qui corregge perché invece di Tiberio svetonio aveva detto statura quae iustam excederet. Però anche il nesso statura eminenti lo toglie da svetonio perché compare nel capitolo cinquantesimo della vita di Caligola. Quindi vedete fa una specie di centone insomma mettendo assieme vari elementi presi da diverse biografie. Qualche volta poi dice delle cose che non possono rispondere a verità quando dice per esempio che «Nam septem suorum peidum procheritate meius constat abuisse mensuram» quindi era alto sette volte i suoi piedi. Quindi questo insomma se il testo era veramente così sembrerebbe troppo alto, dovrebbe essere una specie di gigante almeno così. Di così ho trovato scritto nei commenti. Insomma sette volte il proprio piede a me non sembra che uno debba diventare un gigante, insomma un piede quanto è lungo, un po' meno di trenta centimetri, sì sette per tre, ventuno effettivamente per un uomo dell'ottavo o nono secolo forse due metri e dieci è un gigante anche per noi, sì sì, quindi è proprio così. Ho dunque varie altre caratteristiche fisiche. Avete Oculus Prae Grandibus e anche questo vedete si trova in Tiberio, «Cumprae Grandibus oculis» e poi avanti così anche quello del naso, per esempio, il naso lo trovate di nuovo in Augusto, nel capitolo 79 della vita di Augusto, trovate proprio questo stesso dato insomma con la forma del naso. adesso, eccolo qua, «nasum et assummo eminentiorem et ab immo deductiorem», quindi sembra che abbia avuto il naso con la gobba, da quel che si capisce, perché «assummo eminentiorem» vuol dire che era sporgente in alto e invece «deductus» che andava un po' in giù nella parte bassa. Ma insomma questi sono così particolari, di poco conto. Forse più significativo troviamo quello che dice alla fine, eccolo qua, «valitudine prospera», riga tre, «preter quod antequam decederet», quindi poco prima di morire, «perquat uor annos crebro febribus corripiebatur», quindi spesse volte veniva colto da febri, «ad extremum etiam uno pede claudicaret», e anche, noi diremmo dialettalmente, «tirava la gamba» e anche questo lo trovate nell'ottantesimo capitolo della vita di Augusto, in cui si dice che aveva una gamba in cui soffriva di reumatismi, «ita ut sepe etiam in claudicaret» e quindi abbiamo più o meno la stessa espressione. Lasciamo stare altri aspetti, come per esempio il vestito, su cui però comunque si potrebbero anche qui osservare alcuni punti di contatto, da un lato con le descrizioni degli imperatori di Svettonio, ma è stato anche notato che nelle miniature dell'epoca è possibile trovare puntuale riscontro all'abbigliamento che Eginardo descrive qui. Invece, forse più interessante, è il ventiquattresimo capitolo, quello sul cibo e sul bere, insomma, «In cibo et potu temperans, sed in potu temperantior», quindi si conteneva nel mangiare e nel bere e soprattutto nel bere, «quipe qui ebrietatem in qualicunque omine nedum in seag suis plurimum abominabatur», quindi aveva in odio l'ubriachezza in qualunque persona e soprattutto nel suo giro, insomma, nel suo entourage. E qui corrisponde al capitolo 76esimo della vita di Augusto, dove si dice «Cibi minimi erat», quindi «mangiava pochissimo». Naturalmente Eginardo non può falsare la verità e quindi usa le stesse parole, ma dice cose diverse. «Cibo eni non adeo abstinere poterat, utsaepe quere retur noxia corpori suo esse ieiunia». Quindi non mangiava poco, anzi diceva che star senza mangiare gli faceva male, ieiunia noxia esse. E poi quello che segue, «conviva batur rarissime», anche qui dice il contrario, ma lo dice con le stesse parole di Svetonio, perché Svetonio nel 74esimo sempre della vita di Augusto dice «conviva batur assidue». Quindi Carlo Magno faceva pochi ricevimenti pubblici, pochi banchetti, Augusto invece ne faceva spessissimi. E poi va avanti avendo più o meno lo stesso registro, perché vedete qua dice che lo faceva soltanto «pra equipuis festivitatibus cum magno hominum numero», quindi poche volte dava banchetti, ma quando li dava invitava a mezzo mondo. E la stessa cosa la dice Svetonio. «Non sine manno ordinum hominumque dilectu», quindi abbiamo più o meno la stessa espressione. Più avanti, insomma, parla anche del vino. Eccolo qua, la riga 10. «Vini et omnis potus adeo parcus in bibendo erat, ut supercenam raro plus quam ter biberet». Quindi non più di tre sorsi o forse tre bicchieri, tre boccali di vino, non lo sappiamo. E anche qui potete trovare la stessa espressione «vini quoque natura parchissimus erat». Qui abbiamo «adeo parcus» Svetonio parchissimus, nel capitolo settantasettesimo. «Non amplius ter bibere eum augustum solitum supercenam cornelius nepos tradit». Quindi cornelio nepote riferisce che anche Augusto non beveva più di tre volte durante il pasto. Questo per quanto riguarda quindi il vino e poi possiamo passare al sonno. O dunque, eccolo qua. A estate, riga 12, a estate, post cibum meridianum, pomorum aliquid sumens ac semel bibens, depositis vestibus et calciamentis, velut noctu solitus erat, duabus aut tribus horis qui escebat. Quindi d'estate faceva la penichella, anche una signora penichella, due o tre ore durava, dopo aver mangiato un frutto, un sorso di qualcosa che non si dice di cosa, forse acqua, forse vino, forse anche altre bevande, e poi si svestiva addirittura velut noctu solitus erat, non diversamente da come faceva per andare a dormire di notte. E anche qui questa abitudine la troviamo pari pari per Augusto, dove si dice che si riposava un po' dopo il pasto di mezzogiorno. Post cibum meridianum, però, attenzione, ita ut vestitus et calciatus erat, pauliscut per con qui escebat. Quindi l'abitudine è opposta. Augusto dormiva vestito e calzato e quindi ancora una volta Eginardo nota la differenza perché scrive sulla base del modello. Lui ha questi riferimenti, però nota che il suo sovrano si comportava nella maniera opposta. Si potrebbe naturalmente continuare a lungo, ma insomma adesso ormai sono le sei e mezza, quindi molto in breve vi faccio proprio vedere un paio di altre cosuce di cui si può dire, per esempio il paragrafo 25, quando si parla di come lui parlava e così, adeo quidem facundus erat, riga 7, ut etiam dicaculus appareret, dicaculus, cioè diminutivo di dicax, che vuol dire querulo, insomma, troppo chiacchierone, che parla più del necessario. Da dove prende questa strana parola? La prende ancora una volta dalle biografie svettoniane. Nella vita di Vespasiano si dice che era plurimae dicacitatis, quindi lì c'è l'astratto dicacitas dicacitatis, però il concetto è esattamente quello. E sempre dalla vita di Vespasiano, e con ciò concludiamo, viene un'altra locuzione non immediata, dove dice, eccolo qua, la riga 7, E quindi, insomma, con parole più comuni avrebbe detto, non so, nullam maiorem impendit curam, quam, qualcosa del genere. E invece duche reali qui d'Antiquius lo trovate nell'ottavo capitolo della vita di Vespasiano, quindi è evidente il prestito. Bene, ormai sono le sei e mezza passate, quindi penso di aver anche ormai abusato della vostra attenzione, della vostra disponibilità, della vostra pazienza. Quello che posso naturalmente dire a conclusione è leggete la vita caroli, leggete la vita caroli in latino, possibilmente, perché come avete visto, non è un latino impossibile, è un latino di chi il latino lo ha imparato dopo, diciamo, di chi ha imparato dalla bocca di papà e mamma altre parole, altre lingue, e il latino lo ha imparato dopo, e quindi per noi risulta senz'altro di lettura più semplice. Anni fa, anni fa, 30 anni fa, quando forse qualcuno dei colleghi presenti ricorderà che la RAI trasmise uno sceneggiato, Carlo Magno, proprio doveva essere il 93, quegli anni lì, così. Io avevo da poco sostenuto l'esame di letteratura latina medievale, per quello me lo ricordo bene, uscì per Bompiani, credo, un volumetto tipo quelli della Bur, non mi ricordo neanche chi lo avesse curato, con la vita di Carlo Magno. Quindi esiste una edizione così divulgativa, pratica, col testo latino a fronte e con la traduzione, e se volete divertirvi, insomma, perché veramente è un'opera molto graziosa e non è neanche molto lunga, sono 33 paragrafi, l'ultimo poi trascrive per filo e per segno il testamento di Carlo Magno, quello si può saltare tranquillamente, però, insomma, vi dà un bel quadro, anche perché vi fa vedere come nel Medioevo il latino c'era anche chi lo sapeva bene e lo scriveva altrettanto bene. Grazie.